iniziamo un attimo a tornare alla stanza delle necessità vediamo se ti che ci sblocca un'altra zona per gli animali già che ci sono metto anche a fare qualche felix cappellino bello wow ancora ad ora non ho trovato un cappello che sia decente non dico bello ma decente tutti brutti i cappelli tutti quanti brutti ah tra l'altro è natale adesso è vero direi che un bell'albero qui ci può stare peccato che tocca il soffitto perfetto dai almeno diamo quel tocco natalizio in più ok ora che ho avuto a che fare con tutti gli animali parliamo con tic e vediamo che vuole ciao tic volevi parlarmi per caso sì tic si chiede se tu voglia imparare a costruire un recinto di riproduzione per allevare gli animali perché no certo mi sembra davvero un'ottima idea salvare e allevare gli animali vanno di pari passo e beh sì soprattutto i piccoli sono molto vulnerabili allevando animali qui nella stanza potremmo tenere al sicuro i piccoli capisco che cosa devo fare prima porta due esemplari nella stanza un maschio e una femmina tic consiglia i testral perché sono molto ricercati dai braconieri nobili non è una bella cosa da dire via del loro rapporto con la morte i braconieri vanno a caccia di piume delle loro code ne ho già visti di testral ma dove posso trovarne una coppia qui in giro ne siamo pieni testral selvatici poco lontano dalla tenuta di non mi serve ce li ho poi dovrei comprare una magiformula per il recinto da tommy e pergamene e trovare il materiale necessario d'accordo dopo aver salvato testral e acquisito la magiformula vieni a cercare tic beh i testral ce li abbiamo quindi andiamo a hogs made che ci sono anche qualche missioncina da prendere quindi andiamo ad atomi e pergamene speriamo che abbia anche roba nuova recinto di riproduzione ora posso evocare un recinto di riproduzione meglio tornare da tic con i testral il punto che non ha neanche nulla che ci possa servire vabbè compro il tavolo alchemico dai quello che si stava cercando così possiamo fare tre pozioni invece che due non crederei mai a cosa ho scoperto che cosa hai scoperto nel libro di incantesimi trovato nello scriptorium il libro di incantesimi di salazar serpeverde è stato difficile da interpretare ma anche molto interessante evidentemente credeva che la magia oscura andasse insegnata a hogwarts ai suoi tempi né la maledizione mortale né imperius erano senza perdono riteneva che in caso di necessità gli studenti non dovessero temerla ma essere pronti a utilizzarla ecco perché abbiamo dovuto usare crucio per accedere allo scriptorium non voleva condividere la sua conoscenza con chi avesse paura della magia oscura è stata dura ma l'unica opzione era lanciare crucio sono felice che l'abbiamo fatto perché ho trovato anche dell'altro nel libro di incantesimi fa riferimento a un'antica reliquia che se ho capito bene permette di annullare le maledizioni causate dalla magia oscura e credi che questa reliquia sia in grado di salvare n precisamente voglio cercare la reliquia ma non dobbiamo dirlo a nessuno soprattutto in faustus non capirebbe non c'è motivo di coinvolgere in faustus siamo d'accordo quando saprò qualcosa ti invierò un gufo e non sentirti in colpa per in faustus tenere la cosa per noi è per il suo bene deciderò io cos'è per il mio bene in faustus stavamo andando a prendere un po' d'aria ti unisci a noi sei un bugiardo sebastian ho sentito tutto avevi giurato che non avresti mai avuto più nulla che fare con la magia oscura non è vero ho detto che capisco il tuo punto di vista ma non ho mai giurato di smettere di cercare la cura perenne non sai proprio quando il momento di fermarti vero so benissimo quando non lo è non impicciarti devo andare mi rifiuto di lasciar perdere in faustus sebastian non intendeva cosa ho udito sapevi che non sarei stato d'accordo cercare quella reliquia non è una buona idea sebastian non lo capisce ma è tanto imprudente quanto lo erano i suoi genitori anni fa ed è il motivo per cui sono deceduti so che i suoi sono morti ma non ho mai scoperto come i signori sallow erano professori trascorrevano tutto il loro tempo col naso nei libri nella biblioteca al piano interrato ene sebastian erano al piano di sopra quando è successo hanno sentito un botto e sono corsi di sotto ma era già troppo tardi i loro genitori erano accasciati sul pavimento una lampada difettosa aveva prodotto una tossina in odore che aveva saturato la stanza non hanno potuto fare niente non usavano ancora la magia che storia orribile già ecco perché non condivido l'imprudenza di sebastian ho di fatto perso ene non voglio perdere anche lui ti prego evita quel libro come la peste i riferimenti nel libro sono promettenti ciò che ha a che fare con salazar serpeverde sembra sempre promettente finché non è troppo tardi mi auguro che sebastian non vada oltre ma se credi che intenda farlo ti prego di farmelo sapere sì sono un cretino nella parte di prima ho mutato il microfono per sbaglio ok vorrei mettere i rospi da qualche parte solo che abbiamo già tutte le zone piene sarebbe comodo se tic ci adesso un'altra zona o ci allargasse la quantità di specie disponibili vediamo come carezzi un rospo e beh dai non sembra che gli dispiace quindi nella spiaggia abbiamo delle mucche dei rospi terstale dei gattoni se ci danno un'altra zona tolgo i moon calf il problema è che altra zona potrebbe darmi vabbè che qua potrebbe aprire il muro e farci avere un'altra zona ho salvato dei terstale acquistato la magiformula ho salvato i testral e acquistato la magiformula per il recinto ottimo per allevare i testral devi solo liberarli nello stesso vivario in cui evochi il recinto ok poi usa il recinto per avviare il processo per farli va bene allora dov'è meglio posizionarlo il recinto direi da qualche parte no dai ma che palle mi hai tolto il muro all'angolo mi piaceva a me lì quella zona la pallude direi che il luogo perfetto per i rospi a saperlo non toglievo i puff skin insomma la stanza non finisce mai di sorprendere tic ora abbiamo anche il posto perfetto per quei testral il problema è che devo andarli a prendere ora quando li avrai fatti a copiare quando li avrai fatti viva paparapu oh che bella zona qui che abbiamo terstale e anche i rospi a questo punto venite con me vediamo com'è la palude oh carina è un luogo perfetto per i terstale fa vedere quattro specie di 12 animali perfetto quindi abbiamo due tre femmine e un solo maschio si divertirà immagino ma guarda si è pure buttata a terra per farsi accarezzare la pancia ma che carina che poi i terstale non sono brutti la gente secondo me li discrimina in malo modo ma sono carini che bella la statua messa qui all'ombra ah questo era il modo per rientrare sembrava una pozza d'acqua come sempre nuova zona andiamo a vedere che cosa ci nasconde allora ho visto un forziere là sopra ecco qua con il pavimento ok ogni nuova zona ti sblocca gli oggetti da costruzione ci saranno anche le sanguisughe chiaramente non potrebbero certo mancare dentro una palude sarebbe bello se ci fossero non ti dico del tutto ma anche boh qualche animale di quelli cattivi che però puoi rendere docile in qualche modo e vediamo che altro forziere c'è un altro pezzo da costruzione ovviamente tra l'altro lì c'è una zona alta nasconderà qualcosa sarà possibile arrivarci non lo so però quel tronco sembra la casa di sherek che poi tutto questo si risolverebbe come al solito facile facile se solo potessimo utilizzare la scopa alla cavalcatura evochiamo il recinto per farli accoppiare madonna mia quanto è grosso allora il recinto magari per farli accoppiare sarebbe un po più carino magari nella prima zona e visto che sta zona è buia un bel falò direi che ci sta anche bene come lo usiamo il recinto ah così perfetto quindi specie terstal scegli la coppia ma si sepulcria e il maschio fai riprodurre andate e scopate fai nascere diversi animali oh che carina quanto ci vuole giusto per saperlo 30 minuti oh la madonna ma che carino il piccolo di terstal fammelo vedere dov'è che carino piccolissimo tieni beccati una spazzolata oh devo dire a tic del testral appena nato tic ho fatto nascere un cavallo morto ciao tic ti farà piacere sapere che è nato un piccolo di terstal esatto che bello avere altri testral nel nostro mondo sono animali molto fraintesi eh lo so purtroppo si tu possa vedere i testral tic è fortunato a vedere animali tanto maestosi ma a volte preferirebbe di no è colpa di tic perché dici che è colpa tua eh esatto anni fa il padrone di tic gli ha ordinato di catturare una fenice che aveva visto su un dirupo è l'animale più raro di tutti c'è la fenice dobbiamo catturarla ha visto un animale più bello e ha implorato il padrone di lasciarla in pace oh tic ha esitato a scalare il dirupo come da ordine e ha dovuto punirsi da solo ma no mentre tic si puniva il padrone si infuriava sempre di più frustrato ha usato la magia contro la fenice ma che stronzo forse la fenice proteggeva le uova perché è piombata giù spaventata e furiosa il padrone è caduto dal dirupo prima che tic potesse raggiungerlo tic è rimasto a punirsi in cima al dirupo per giorni finché tobs non l'ha trovato vabbè tanto c'era poco da fare ha avuto ciò che meritava purtroppo si io direi che il tuo padrone ha avuto ciò che meritava tic non voleva che qualcuno si facesse male eh quello lo so né la fenice né tobs e nemmeno il padrone spesso tic si chiede che cosa ne sia stato di lei tic è fortunato ora è a hogwarts e ti aiuta a salvare gli animali forse può fare ammenda per il passato ma certo che puoi ora abbiamo il modo di far ii paparabum gli animali e ti direi che già che ci siamo perché no facciamo accoppiare anche le mie due fenici che tra l'altro una è grigia e l'altra è bianca chissà cosa potrebbe uscirne fuori oh ti immagini esce un ipogrifo viola così perché è magico sono davvero curioso di vedere come si evolverà ancora la stanza delle necessità perché secondo me se si sono aperti questi lati si aprirà anche questo lato e ci farà salire là sopra perché sto balconcino messo qua un po' un po' mi fa pensare eh se c'è una questline che mi sta interessando veramente è proprio quella di sebastian però per ora dobbiamo incontrare poppy e la missione di livello 20 il che mi fa pensare che io sia stato in giro molto più forse di quanto il gioco oggettivamente si aspettasse poi oh magari in realtà te la mettono a livello 20 ma tu oggettivamente sei davvero over level sempre fisso magari non è neanche vero per carità magari sono io che ci penso troppo e in realtà il gioco comunque è adattivo su questa parte eccoci arrivati ah che bello c'è già un nemico è un lupo ah no è il solito rospone eccomi qua poppy la mia piccola waifu canonicamente io sposerò questa ragazza Natty mi ha detto cosa avete fatto eh hai voglia sta benissimo alla forte sta bene la tengo d'occhio io è al sicuro poppy non preoccuparti bene la voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me si li ho sentiti parlare nella testa di porco e tu lo sapevi che Victor Rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti eh hai voglia non ci abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll in un certo senso si ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri va bene ma se posso fare qualcosa per aiutarti fammelo sapere che lo devo dopo ciò che hai fatto per alla forte hai mai sentito di una certa sala dello spinato temo di no perché che cos'è il più grande segreto dei bracconieri pare l'hanno nominata due volte ma non sono entrati nei dettagli non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando senza dubbio a scapito di creature innocente e quello era palese i bracconieri hanno accennato a questa area e pensavo che se cercassimo un po' in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività se mai incontrassi la nonna tutto questo non è mai successo che cos'è l'osca d'accordo vai tranquilla non preoccuparti poppy dovessi incontrare tua nonna non le dirò nulla ci incontreremo quando faremo le nostre nozze cosa che succederà molto probabilmente quindi ti seguo vai ma quanto sei agile con quella gonnellina poppy io e te saremo una grande coppia se non mi crepi tra le mani fai attenzione no vai tranquilla le ho già incontrati in realtà una volta è stato un caso e hanno attaccato i bracconieri se non sbaglio però è già tirato fuori la bacchetta prendete per sciocchi credete che non abbiamo notato che siete sempre di più qui in giro e in combutta coi bracconieri no purtroppo si sbagli non abbiamo nulla a che vedere con loro anzi vorremmo fermarli spero per il vostro bene che sia così la nostra specie sta perdendo la pazienza con i bracconieri e i loro aiutano eh lo immagino hai ragione che gran simpaticone e vabbè è un centauro andare peggio i centauri non amano molto la stirpe magica e i bracconieri di certo non aiutano e beh certo ma perché pensava che avessimo a che fare con i bracconieri ho visto i bracconieri parlare con alcuni abitanti di Hogsmeade non so il motivo forse è per questo che i centauri sono sicuri magari li minacciano o magari ci guadagnano semplice che è lascialo in pace sembra che molti animali ultimamente siano più aggressivi del solito l'ho notato anch'io è come se ci fosse qualcosa nell'acqua beh è comunque un indizio io ho provato a salvarlo però mi sento in colpa intanto io mi prendo tutte le sanguisugue beh di sicuro c'è della pelle squaiata guarda quanta pelle eh quello si il fuoco è ancora caldo e qui c'è un forziere oh wow questo è metallo goblin ah ok sembra fuori luogo qui tra i bracconieri devo parlarne con poppy però alla grandezza del collo del drago eccomi qua tesoro hai voglia i bracconieri sono stati qui vedo tracce ovunque ma ho trovato anche una cosa di fattura goblin io ho un'armatura goblin continuiamo a cercare ma fa attenzione merlino solo lo sa cosa stanno combinando e chi lo sa ho un brutto presentimento purtroppo quali interessi in comune hanno goblin e bracconieri farmi fuori laggiù bracconieri sicuro non ci sono animali però cosa ci fanno qui dobbiamo avvicinarci e capire non saranno felici di vederci usiamo una disillusione o forse è meglio un approccio meno discreto ma se tipo io lo prendessi qua lo buttassi di sotto quindi insomma che è successo qualcuno è morto per caso vabbè disillusione si allora certo io li butterei di sotto per carità cosa che molto probabilmente farò soprattutto con lui che è lì sul dirupo vai via ah purtroppo non ha funzionato ma stai zitto ecco fatto basta zitta aspetta fammi prendere l'energia antica no kaboom ce n'è ancora uno no poppy me l'è fregata l'uccisione non ti sto ascoltando poppy sono un attimo impegnato sai ecco fatto fanculo la discrezione che ah i i cavoli più che altro sono rimasto deluso da flipendo speravo che li buttasse di sotto forse per aver dovuto usare di pulso d'accordo entriamo nella tenda è un drago lo sapevo lo sapevo che era troppo grosso quel coso no è una viverna è una viverna e c'è il metallo goblin addosso il che vuol dire che li stanno usando per combattere è un'arena di combattimento per draghi viverne lunga lo spinato e beh certo devono esserci altri draghi qui i bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro ma con discrezione nessuno deve accorgersi di te vai tranquilla bella e lo so c'hai ragione vai a vedere zitto posso passare che belli però i modelli delle viverne hai notizie della tua famiglia sei riuscito a convincere i tuoi fratelli ci uniranno la nostra causa dicono che ci spingiamo troppo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla è mister crab questo ecco fatto risolto in un colpo solo che bello epitrificare tutti quanti comunque ecco fatto pop ah dicevo poppy dov'è eccola era invisibile non l'ho vista ma ci sono anche delle povere capri e c'è un altro ipogrifo che bello che è perché ho la brutta sensazione che ci finiremo anche noi nell'arena che è stato ah ma stanno attaccando un drago che i bracconieri devono essere in combust poppy dietro di te sta accadendo qualcosa che succede laggiù eh sporgiti l'avranno appena catturata si sta ribellando con tutte le sue forze eh lo vedo ma è una lotta quindi combattiamo io prima continuerei un attimo tranquilli appena ci avviciniamo vediamo guarda hanno un uovo di drago ma no vabbè me lo prendo io intanto così mangiamoci una mela che bello no ti prego se mi danno il mio drago personale sarebbe la svolta definitiva del nostro personaggio ferito da un drago il patronus è un drago e abbiamo un uovo di drago sarebbe perfetto perché ho la brutta sensazione che adesso si avvicina qualcuno bene ho l'uovo ci sei l'elemento sorpresa ci regalerà solo qualche secondo uovo di drago d'accordo avanziamo poppy direi che finché siamo ancora nascosti rimaniamo nascosti chetrificalo fatto io sento rumori anche da questo lato il che vuol dire che ce ne sono molto probabilmente anche altri oltre a quelli che stanno combattendo ecco fatto non ci hanno ancora visto beccati questo ecco fatto no no l'ho mancata con diffindo tutto risolto tranquillo ti aiuto io ecco ti pareva ti stavamo proprio cercando e hai portato compagnia eh voglia dove sei certo che l'animagus è bello resistente ma proteggiti questo cretina no è scappata sasso in faccia lascio in faccia la mia white strondo no expelliarmus e stai buono lì ho sbagliato incendio no muori ah eccolo lì dove era l'altro drago era dentro la gabbia dai riprovaci dai è quello che voleva poppy l'ha colpito insieme a me che brava arrivo arrivo forse è stata una pessima idea o magari no che bello ma va se l'è mangiato se l'è proprio ingoiato se l'è proprio ingoiato è il drago l'incendio l'incendio non arriva fino alla bastardo è una bugia questa speriamo che anche gli altri draghi siano liberi ne dubito però almeno una ora è salvo vediamo quello era un nero delle ebride credo che l'uovo appartenga a quel drago canonicamente ora si sono baciati non se ne sarebbe andata senza è quello è vero non ci ha di certo lasciato il suo indirizzo non so oggi sono successi solo eventi inattesi dai goblin all'arena l'ultima cosa che mi aspettavo era di trovarmi con un uovo di drago ebbè quello è vero ci penserò io e fin là è ovvio ma perché no io ho un posto sicuro no no vai tranquilla vabbè difensore dei draghi finita la missione quindi eh sì ciao bellissima sono quasi tentato di andare da da tic a chiedergli dell'uovo e comunque sì ci sarà un'altra zona dai ce l'hanno appena spoilerato è tempo di imparare l'incantesimo trasformante completa gli incarichi assegnati che sono certa si riveleranno utili anche per completare la guida pratica quindi partecipa alla mia lezione per apprendere il nuovo incantesimo d'accordo dopo di che discuteremo dei progressi che hai compiuto finora certo signora tic tu sei qualcosa di uova di drago ci vediamo ai tre manici di scopa dovrebbe essere sicuro ora che abbiamo salvato il drago dalla sala dello spinato d'accordo speriamo che mi dica qualcosa su come per rendermene cura allora eccoci ai tre manici di scopa lì c'è una missione ma cosa più importante c'è la mia waifu che sta anche bevendo è un bel cambiamento dalla nostra ultima uscita non me lo ricordare pensare a quella tenda mi fa ribollire il sangue stavo pensando a quei poveri draghi nell'arena di combattimento ai collari che indossavano sembrava argento di go è molto probabile che lo fosse credo che quello che abbiamo trovato nell'accampamento dei bracconieri sia proprio un collare non sapevo che li usassero il drago che ha attaccato la carrozza indossava un collare il professor Fig era molto stupito dal suo comportamento l'attacco mi è sempre sembrato un po' strano sferrato di punto in bianco no ma era ovvio che era manipolato eh no non ce l'aveva se la troveremo potremo restituirle l'uovo dobbiamo controllare ma io vorrei tenermelo l'uovo oggettivamente nel senso vorrei sai farlo crescere sentiamo sentiamo forse ti ho causato altri problemi con Victor Rookwood perché ti insegue ah problemi sai Rookwood collabora con Runrock e questi vuole una cosa che ho trovato alla Gringot la passaporta di Fig ci ha condotti lì dopo l'attacco del drago è una storia lunga e il professore mi ha chiesto di non parlarne e noi lo stiamo parlando finalmente ora capisco quello che abbiamo visto alla tenda non temere custodirò il tuo segreto come se fosse mio non insisterò per farti dire altro forse è meglio che vada voglio trovare quel drago il prima possibile ma io voglio tenermelo all'ovetto che palle d'accordo volevo far crescere un uovo di drago detesto vedere abbattere una creatura così ma i troll dovrebbero stare lontani da Hogsmeade grazie